Ciao a tutti, oggi facciamo l'analisi di Walt Disney. Dunque, partendo dal fatto che a guardare l'andamento generale vediamo fatturati, profitti lordi, utili netti in crescita, vediamo anche che il rapporto utile netto sul fatturato sta crescendo. Ciò significa che questa società sta gestendo bene le entrate e le uscite perché in 4 anni il fatturato è cresciuto del 13% e gli utili netti sono cresciuti di oltre il 50%, quindi bene da quel punto di vista. Spese generali e amministrative di vendita relativamente basse, tanti altri miei parametri non vengono rispettati, ma veramente di pochissimo. Ora, chi ha scaricato il mio indicatore, se ha fatto l'analisi di Walt Disney, avrà notato sicuramente che è da tenere d'occhio perché al di là del fortissimo brand ha anche dei buonissimi numeri, che se continuano a migliorare come sta facendo in questi anni è assolutamente una società da avere in portafoglio. Ora, premesso che ovviamente bisogna contestualizzare il prezzo al resto del bilancio, quindi bisogna vedere in futuro come si comporteranno i numeri, secondo me un buon prezzo di acquisto potrebbe essere intorno agli 85-90 dollari ad azione, quindi prezzi del 2016, possibilmente anche qualcosa nemmeno. Ora, se vuoi il mio indicatore ti lascio il link in descrizione, ti ricordo che questa analisi è un'opinione mia personale, ti saluto e ti auguro tanti buoni investimenti. Ciao!